Cesara Buonamici al posto di Mirta Merlino a pomeriggio 5? È più che una semplice voce che arriva dai corridoi di Cologno Monzese. Secondo il settimanale Oggi Pier Silvio Berlusconi, che ha grande stima dello storico mezzo busto del Tg di Canale 5, sarebbe pronto ad affidarle anche il talk d'informazione del pomeriggio che dopo l'addio a Barbara D'Urso ha perso ascolti e l'affetto del proprio pubblico. E Mirta Merlino? Come vociferato da tempo per l'ex volto della 7 si potrebbe prospettare un prima serata politica su Rete4. Un programma più nelle sue corde. Per sé e per tutta la sua squadra. Secondo il settimanale Oggi lo spazio scelto potrebbe essere quello di zona bianca condotto da Giuseppe Brindisi, che tra l'altro prenderà il posto della Merlino nelle ultime puntate di Pomeriggio 5. Insomma la scelta di Mirta Merlino continua a far discutere i vertici dell'azienda, non tutti però sono d'accordo, vorrebbero cambiare, andare sul sicuro. Cesara Buonamici, già riconfermata come opinionista anche per la prossima stagione del Grande Fratello, però non è così sicura che sia la scelta giusta per lei. Ci vuole pensare, riflettere almeno fino a quando non avrà una proposta ufficiale da parte dell'azienda che l'ha vista crescere.